foodglory.com, trovate il link nella descrizione fateci un salto e buona visione bella a tutti ragazzi, bene, ritornate nel vostro gioco siamo tornati signori sul premissimo pack opening dei TOTS della Bundesliga signori abbiamo qui con noi dei giocatori fantastici come Umelsi, Lavandino Landowski Farman vi faccio vedere qua un'immagine, guarda, c'erò perché vi li voglio di tutti ragazzi, so veramente in bordello, eccoli qua abbiamo Thomas Müller Mkhitaryan, Douglas Costa Humels, poi chi c'è sta Rafael Hernandez li portacci loro ragazzi, ce ne stanno un bordello, vi posso solo dire una cosa ragazzi, intanto vi faccio vedere delle clip dove questi giorni ho spacchettato un pochino tra ieri e oggi diciamo tra ieri e l'altro ieri, scusate dove ho trovato tantissimi giocatori però non stavo registrando, ho solamente registrato per quanto riguarda il gameplay perché c'erano dei pacchetti speciali, vi posso dire che ho trovato un bordello di roba e ragazzi, ho anche rossicato tantissimo perché ho trovato, come ben sapete tanti giocatori della BPL scusate, sì, della Barcais che appunto l'altro ieri erano tozze e io lo sapevo che tanto uscivano quando non erano più tozze come il Kunagüero, Marez e tanti altri ragazzi, godetevi queste clip che vi farò vedere prima di iniziare lo spacchettamento, poi con altri pacchetti mi raccomando, arriviamo a 40.000 like ragazzi perché ne merita veramente tantissimi abbiamo trovato veramente un bordello di giocatori godetevi queste clip e poi iniziamo subissimo con lo spacchettamento con altri pacchetti e poi iniziamo subissimo Ed eccoci qua ragazzi, come avete visto ho trovato il puno Aguero, Mares, molti Tots Raphael Tots che secondo me è stato proprio il meglio di Raffa che abbiamo trovato, 87 Su Arez ce ne abbiamo trovati un bordello ragazzi, un bordello Ma siamo qua oggi perché hanno messo dei pacchetti molto particolari Quindi solo per quello che ho trovato ragazzi dovete lasciare assolutamente 40 mia like Perché se se non guarda, po 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 Mi mette le mani nel terreno di lascio al naso Allora, siamo qua ragazzi perché ci sono 10 pacchetti da 45.000 crediti, questi qua sono oro prime, nel senso che includono 12 giocatori di cui 6 rari e almeno 10 oro, quindi sono veramente un bordello di cose. Io non lo so ragazzi, a pacchetti da 45.000, così, potranno mettere direttamente i pacchetti da 50.000, facendo un sordo di danno. Andiamo subito sulla play a spacchettare e a cercare di trovare il nostro Toz, signori, speriamo di trovare un Toz che non so, guarda che spero veramente di trovare, intanto non ho immaginato che trovavano quelli altri, ma guarda me lo so, pego proprio. Almeno Aubameyang, Lavandrino Lewandowski, Müller, Müller l'ho trovato fino a ieri, 70 volte. Idem Aubameyang, Idem Douglas Costa, Idem Mkhitaryan, Idem Farman, quindi vedi che cazzo devi fare? Cdc no, eh? Mi debita un Toz da Bundesliga e voglio un giocatore speciale, difensore centrale, Mycon. Io tanto sapevo che trovavo Guerlain Mares, ma me lo sentivo dentro proprio, me lo sentivo. Giocatori da Bari che mi sono fatto trovare l'altro giorno, e quando erano Toz non l'ho trovati. E poi l'altro giorno ho trovato un giocatore da Bundesliga che oggi sono Toz e non me li trovo. Meno male che ho spacchettato questi giorni perché c'erano altri pacchetti speciali, ho trovato Raphael e tanti Toz e comunque bei giocatori. Così a random, portiere, guarda, no non ci credo, bastardo! C'è che era Toz e non l'ho trovato, e oggi sì! Pezzi di fango che siete! Sti pacchetti sono molto strani, molto molto strani. No vabbè, non ci credo. No dai, non ci credo, regà. Io me lo sentivo ragazzi, me lo sentivo che sarebbe andata così. Ragazzi, e neanche un Toz! Mortacci qua ne ha un informa. Che ce faccio con questo io? I broccoli? So proprio curioso di vedere che troviamo questi giochetti a 15.000, guarda, di schifo alcuni. Lo schifo uno, e non troviamo niente. Guarda, me ne apro uno con i crediti e poi ragazzi veniamo un po'. Tanto comunque non demorderò ragazzi, se non trovo oggi niente né Müller, né Lavandowski, né Mkhitaryan, chi è? Godin. Se non trovo nessuno di loro, mamma mia ragazzi, spacchetterò finché non lo trovo, guarda. Ormai è diventata una questione di principio, che io un Toz con i contro coglioni lo devo trovare. Anche perché poi mi vive il culo, che mi fa trovare Müller e tutti gli altri, Tosi in nulla magari. Mi fa trovare Aguero, Mares e tutti gli altri, dopo che hanno tolto i Toz dalla Barpes. E se è proprio ostruoso. Andiamo su Xbox ragazzi che è meglio va. Ok ragazzi, siamo su Xbox, iniziamo con questi pacchetti. 10 pacchetti da 45.000 crediti. E dacci il Toz! Iniziamo subito con Godin. Eccolo! Niente, l'Immortacido qui non si vede l'ombra di un Toz neanche a morire. Non ne trova neanche più uno. Ma adesso, difensore centrale, Naldo. Dai, dai, dai FIFA, dammi Müller, Mkhitaryan, Douglas Costa, Aubameyang, me l'ha sempre dato. Non dico Lavandowski perché quello è il top, ma almeno l'Immortacido tu sia me la vada. Uno? Cinque perché... Voi mettete, ma che cazzo si mette da fa? Ma dammi il Toz, niente, difensore centrale, Boateng. Vedi che Boateng non è il Toz della Bundesliga di Mkhitaryan, quando cavolo mi sarebbe uscito. Mai! Tre pacchetti rimangono, tre pacchetti mi farà trovare adesso Douglas Costa. Sì, ciao, buonasera. Manco Chiellini, Bonucci, manco Chiellini che costa qualcosa. Bonucci che costa una ceppa di culo. Penultimo, CDC ragazzi, mamma mia che pacchetti di merda. Ma meno male che sti giorni ho spacchettato, ho trovato qualche Tozza, qualche giocatore buono, come Suarez e tutti gli altri. Perché qui proprio c'è la DRA più atomica, guarda che schifo. Dai, proseguiamo qualche pacchetto da 15.000 e poi possiamo concludere il pacco opening. Tanto meno male, ve l'ho detto, che in sti giorni ho spacchettato e ho trovato comunque tanti bei giocatori. Meno male, ragazzi, se non mi sarei sparato su un investigolo. Perché non è possibile, non sto trovando giocatori forti. Quando sono Tozza non li trovo, quando non sono Tozza li trovo. È sempre così la situazione. In totale ne stiamo trovando tantissimi. Anche dei giocatori buoni, portieri, ci dà Marchetti. Marchetti ci facciamo i broccoletti, perché Marchetti ce l'abbiamo già. E abbiamo dato Marchetti doppioni. Io non voglio gli informa, non voglio l'IF, non li voglio l'IF. Voglio, gentilmente, un cazzo di Tozza. Finalmente il Tozza, eccolo. Hernande il 79, non me ne so accorto, regà. Hernande il 79, il Tozza è il più forte che ho trovato fino adesso. Il Tozza è il più forte fino adesso, ragazzi. Hernande il 79, finalmente. Non me ne so conto che era lui. Si gira intorno ai 200.000 crediti, 250.000 crediti. Finalmente, regà, non me ne ero veramente reso conto. Porca miseria, ho detto, vabbè, sarà il solito tosse del cazzo. Invece Hernande... Buono così, ragazzi, buono così. Vi faccio anche vedere che se no poi non ci credete. Eccolo qua, eccolo qui. Guardate che bello, guardate. Eccolo qua. Bello, ragazzi. Finalmente, finalmente. Hernande il 89, lo mandiamo nel club, signori. Assolutamente. Non so soddisfatto. Anche se, tanto, io voglio uno dei big. Ok, Hernande, ragazzi, è fortissimo. 89, non me lo so proprio se ho conto. Ma il mio obiettivo è trovare uno dei pilastri importanti tra Müller, Douglas Costa, Miki, Italian e questi giocatori qua, ragazzi. Il mio obiettivo è quello. Ma Hernande il 89 c'ha proprio un buccio gusto. Ragazzi, io ve lo dico. Questo Bacomini arriva a 40 mila like, ragazzi. Perché sculo giocare CSA. E abbiamo trovato un tosse veramente buono. E poi, oltretutto, in questo Bacomini ci stanno un bordello di tosse. Tra Suarez, il Kun Aguero, l'Informa e quello che prepara a voi. E poi la cigheggina Hernande. E finalmente, finalmente un tosse come si deve. Buono, buono, buono. Ci abbiamo gli ultimi pacchetti, ragazzi. Andiamo qua. Abbiamo... Questo è un altro. E poi abbiamo terminato i FIFA Points. Uh, il secolo sinistro, Schurl. No, Draxler. Per esempio, pensavo che era Schurl. E comunque poi, quei crediti ci riteniamo, ragazzi. Anche perché, comunque, metteranno altri pacchetti. Quindi in questi giorni troverete altri spacchettamenti sulla Bundesliga dei tos. Finalmente, un Hernande il 89 ci ha fatto un attimo risollevare morale, ragazzi. Meno male, meno male, meno male. Guarda. Dove sta? Eccoli qua, questi qua. Ah, c'è anche Umbels. Magari a trovarlo Umbels pure abbiamo trovato veramente un bordello. Signori, che dire? Questo appuntamento può terminare qua. Finalmente un tosse 89 che sull'88. Finalmente, buono, buono, buono. Questi sono... Vabbè, questi sono i giocatori. Questi sono in prestito. Vi faccio vedere quanti tosse stiamo trovando. Marchesi, io l'ho comprato. Eccolo qua. Hernande. Questi sono tutti i tosse belli trovati. Le capeno male. Guarda. Cioè, sono veramente un bordello ne abbiamo trovati di tosse, eh. Posso dire che ne abbiamo trovati veramente un bordello. Guarda qua. In più ci sono tutti i tosse che stanno anche sulla Playstation. Quindi, buono, buono, buono così. Ragazzi, questo video per terminare qua. Vi vedete la scena bella posto su, commentate, condite questo video. Passate la pagina a Facebook, Instagram, Instagram, descrizione. Tutti ci sono già qua sotto. Al prossimo appuntamento con il Vestero School of Jogging, signori. Che sarà un altro bel packovering dei tosse della Bundesliga. Che arriverà o proprio domani. Vediamo un attimo com'è la situazione. Oppure, smorsiamo un attimino. Porterò un bel gameplay su un altro gioco. E poi, dopo domani, vi porterò un altro bel packovering dei tosse. Vedremo, ragazzi. Iniziamo un attimo a smorsare un po' la situazione che stiamo facendo solo tosse e packovering. Ma sapete che comunque la maratona è questa. E niente, ragazzi. Noi ci vediamo domani con un prossimo elemento. Finalmente abbiamo trovato un bel tosse. 40.000 like per il prossimo. Ragazzi, vi raccomando, ci tengo. Bella, signori. Grazie. Grazie a tutti.